Vendalina io ti adoro, mi sei molto simpatica, però c'è stata una cosa che ho sentito nella clip che non mi è molto piaciuta cioè tu ti sei riferita a Blind dicendo Franco, tanto si chiama Franco generalmente questo è il modo per svalutare la carriera artistica di una persona allora ci può essere tutto l'astio, credo che te l'abbia chiesto lui di essere chiamato è un invito, continua a chiamarlo Blind, così come le persone che scelgono un nome d'arte vogliono mantenere quel nome d'arte un consiglio, quello puoi seguire o meno no Bladi assolutamente, però quando uno lo chiama Blind poi mi dice, no si dice Blind, Blonde, Blonde, ti chiami Franco poi io non lo chiamo proprio perché ormai non ho proprio più il rapporto quindi non ho proprio in alcun interesse a chiamarlo e allora non chiamarlo neanche Franco è così che funziona era l'unica persona, lui e Jeremias con il quale avevo legato e mi hanno proprio deluso Grazie 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 Grazie